Che fine ha fatto il Bosco dei Nati? Se lo chiedono i residenti di Via Bredina, dove dovrà sorgere un polmone verde costituito da 500 essenze autoctone, una per ciascun bimbo nato o adottato a Cremona. Lunedì c'era stata la cerimonia con la sistemazione della prima pianta, una quercia albero simbolo di longevità, alla presenza di assessori, dirigenti, sponsor, insegnanti e studenti delle scuole che hanno partecipato al progetto. Ma da ieri di quei primi alberelli non c'è più alcuna traccia, un mistero. In realtà tutto era previsto, confermano in comune. Si è trattato solo di un momento simbolico nel primo giorno di primavera, ma il bello deve ancora avvenire. L'area sarà soggetta dei lavori precisi per sistemare l'impianto idraulico e creare un percorso che si snotterà tra betulle e querce. Per essere tutto pronto il 21 novembre, in occasione della giornata nazionale dell'albero, quando si terrà una nuova cerimonia. Questa volta si spera definitiva.